Buongiorno, sono Emanuele Kerchi, questo è il mio sito YouTube. Oggi parliamo di storia, biografie. La riconoscete? È la regina Maria Antonietta di Franza, o meglio Maria Antonia da Austria. La storia è molto semplice. Qualcuno di voi l'avrà conosciuta tramite il racconto di The Rose di Versailles, cioè Lady Oscar in Italia. Purtroppo per chi ha visto l'anime è stato molto, molto rimaneggiato. Però la storia di fondo rimane. Ma è così che è andata. La regina Maria Antonietta com'era? Era una regina svogliata, diciamo la verità. Non voleva eseguire i suoi compiti da regina, ma divertirsi. E purtroppo il divertimento non è mai stato associato in Francia con le regine, quanto con le amanti del re. Da la Main Theron, la Montespan, la Du Barry, la Pompadour, ok? Queste sono le amanti del re che hanno guidato la politica della Francia sotto Luigi XIV e Luigi XV. Quindi, Antonietta voleva comportarsi più da amante che da regina. Amante, per modo di dire, perché un po' il marito per lungo tempo lo chiamava pover' uomo, gli faceva pena, ma non l'attirava molto e ignorava i suoi doveri di letto. Ci metteranno un po' la coppia a fare un figlio, un delfino, ma riusciranno? Alcuni dicono che il marito sia stato curato da una fistola al pene che gli impediva di godere del sesso. Altri dicono che semplicemente non gli piaceva fare queste cose. Aveva poco appetito sessuale. Certo, aveva molto appetito a tavola e si divertiva più a cacciare e a fare il fabbro che a fare il re. Però sfatiamo un mito. Per molto tempo Maria Antonietta ha cercato di fare, lei, guidare la politica estera del regno e anche di fare, i ministeri, ma non si è riuscita. Non si è riuscita perché il re era fortemente influenzato da altre persone che lo convincevano a tenere una linea francese. E infatti una delle accuse che si saranno sempre mosse a Maria Antonietta è che voleva far influenzare la politica francese dalle esigenze della madre e del fratello. Quindi una regina sventata di cui tutti parlano male ma che in fondo non era così male se fosse stata un'altra persona, se non avesse avuto dei doveri. La brutta fine l'ha resa una martire per molti francesi di credenza autoritaria assoluturistica, assoluturistica monarchica. È stata una martire? Diciamo che si è ricercata in parte perché è stata sommersa dal fango, fango che forse veniva dagli stessi ambienti di corte, di sicuro del duca d'Orléans, di sicuro molto probabilmente anche dei fratelli del re e però lei non si è mai difesa. Doveva capire di non essere amata dai francesi e forse l'ha capito quando scoppiò l'affare della collana della regina. Questa collana gli voleva essere regalata dal re ma lei la rifiutò. Un po' di tempo dopo gli dicono che il cardinale de Rouen la prese questa collana per darla alla regina. Cioè Rouen si faceva garante però i soldi alla fine li avrebbe dovuti mettere nella regina. Solo che la regina non sapeva niente di questa collana. Anzi, quando ha scoperto che cosa aveva fatto Rouen ha pensato che era un modo per infangare la sua immagine e se l'infangò di più mettendolo sotto processo. In Francia il re avrebbe potuto mettere in calera Rouen senza problemi ma volle seguire le procedure più favorevoli al cardinale. Tanto era sicuro che il Parlamento di Parisi l'avrebbe condannato. Il problema del Parlamento di Parisi è che il Parlamento di Parisi non amava il re e più di una volta gliel'aveva dimostrato. Quindi anche se forse c'erano gli estremi per un delitto di lesa maestà nei confronti della regina, il Parlamento di Parisi non lo considero tale. Condannò la finta duchessa, la contessa della motte, la regina invece fu frustrata nei confronti del cardinale. Ma l'odio si attiziò ancora di più perché dopo essere stato prosciolto dal Parlamento il re obbligò comunque Rouen ad andare in carcere. Su ciò c'è scritto un bel libro dello Scandolo della Collana di Roberto Gervaso che magari in qualche mercatino lo trovate. Va bene, ormai sappiamo tutti che alla fine Luigi XVI convocò i stati generali e gli dimostrò di essere pauroso più di una volta. Non si decise a partire in tempo per una fortezza nel nord della Francia, sì, secondo me quella è la verità, cioè non voleva andare in Austria o dall'altra parte, voleva una fortezza nel nord della Francia dove potesse riorganizzare le truppe ed eventualmente accettare anche dei sostegni di altri sovrani per mettere fino alla rivoluzione, ma non mettersi nelle mani totalmente di un'altra corte. Per oggi è tutto, ci vediamo un po' presto, se vi è piaciuto questo video ditemelo e a presto, grazie.